Ed ora commentiamo le notizie che abbiamo appena visto e sentito e le notizie del giorno con Marco Di Michele Malisi, nostro amico, associato e soprattutto esponente politico di Fratelli d'Italia, nonché responsabile di Giovani in Movimento. Giovani in Movimento, che poi lo vedremo, edita anche un foglio a vasto, ma per non scollegarci dai servizi che abbiamo mandato a inizio di eventi, parliamo della presenza, definita ovviamente importante, eccezionale, della golletta verde a largo delle coste vastesi. Il presidente regionale Di Matteo ci ha appena detto che un po' di inquinamento c'è, loro l'hanno rilevato nelle acque sicuramente ed anche sul piano della urbanizzazione della costa, ma soprattutto nelle acque. Sì, golletta verde è stata chiara, oltre i limiti di legge, gli inquinanti riscontrati nei campionamenti dei prelievi proprio a Fosso Marino. Legambiente, dati alla mano, ha detto che lo specchio d'acqua antistante il centro della nostra spiaggia è fortemente inquinato. A questo punto io mi chiedo a cosa siano serviti i lavori eseguiti tra questo inverno e la primavera proprio a Fosso Marino e costati alla collettività circa 265 mila euro, così come mi chiedo come si possa l'anno prossimo, così come è intenzione dell'amministrazione comunale, chiedere l'imposta di soggiorno a quanti decideranno di venire in vacanza a vasto. Direi, visto che nei giorni scorsi si è parlato di assegnazione non di bandiera blu alla spiaggia di Vasto Marina, ma di bandiera verde, ma quale bandiera verde? Qui di verde ci sono solamente le facce dei cittadini di Vasto e degli imprenditori turistici verdi di rabbia. Sì, però leggiamo nella pagina locale del centro che il Comune avrebbe individuato quattro aree pedonali fino al 30 agosto, quindi vietare in alcune aree la circolazione di auto è comunque un contributo sia pure indiretto alla salubrità dell'ambiente. Sì, io proprio prima dell'inizio di questa stagione estiva ho ritenuto di dover intervenire sulle varie questioni che ogni anno occupano le pagine dei quotidiani locali, dicendo che sostanzialmente è ora che una volta per tutte si stabiliscano delle regole, in merito per esempio alla questione musica, così come alle isole pedonali. Bene le isole pedonali, lì dove sono state studiate attentamente, ma non è possibile ogni anno tornare ad occuparsi degli stessi problemi e delle stesse questioni senza darne una soluzione definitiva. Ogni anno, una volta iniziata l'estate, si comincia a discutere sul dove debba partire l'isola pedonale, sul dove debba finire. E' chiaro che bisogna una volta per tutte stabilire delle regole. In merito agli orari di intrattenimento musicale, la mia posizione e quella di Giovani in Movimento è stata sempre chiara. Noi diciamo che non ci devono essere limiti di orario all'intrattenimento musicale, ma ci devono essere limiti di decibel. Perché riteniamo, ma questo credo sia obiettivo, che non sia la musica a dare fastidio, ma il volume con il quale essa viene diffusa. Isola pedonale, lo stesso, occorre una volta per tutte stabilire da dove parte, quali sono le isole e le zone da rendere pedonali, e fissarle una volta per tutte, così in modo da potersi occupare la prossima estate di questioni più vere, più serie, più importanti per la nostra città, come per esempio quella che riguarda la vendita, tra virgolette, del prodotto turistico vasto. A proposito di vendita, rileviamo che la pagina locale del centro apre con cronaca, con cronaca che va ben oltre la metà pagina, tre pezzi che riguardano le tre principali città del nostro comprensorio, il quinto arresto dei carabinieri per l'assalto al portavalori, hanno arrestato Antonio Patruno, 40 anni originario del luogo, e presunto autore materiale della rapina al furgone che si ricorderà. Vendita, diceva Marco Di Michele Marisi del prodotto turistico, invece la vendita che viene riportata dal giornale in cronaca e la vendita di Ascish, 18 grammi venduti appunto da un giovane che è finito nei guai, questo a San Salvo, e poi a Cupello spari contro l'auto di un quarantenne, i colpi sentiti dai residenti, nessuno ha visto l'autore. Marco Di Michele Marisi con il suo movimento è intervenuto spesso, interviene spesso, sulla questione della sicurezza. Ha anche attrezzato insieme al consigliere Sigismondi un gruppo di volontari chiamati Ronde, anche se loro li chiamano in modo diverso. Insomma, voglio dire, chiediamo a lui di commentare queste tre brutte notizie. Basta appunto guardare la pagina del quotidiano Il Centro di Oggi, così come di altri quotidiani, oggi e non solo oggi, per capire che appunto a vasto persiste un problema sicurezza. Non entro nello specifico delle indagini sull'assalto al portavalori, ma posso affermare senza timore di essere smentito che questi sono veramente episodi da far west. Sono anni che noi chiediamo all'amministrazione comunale di prendere provvedimenti per garantire l'incolumità dei cittadini. L'amministrazione comunale e il centrosinistra in generale si è sempre mostrato sordo dinanzi a queste nostre proposte. Noi abbiamo chiesto innanzitutto la velocizzazione della realizzazione del progetto di videosorveglianza del quale ormai si parla da sette anni. Abbiamo chiesto l'istituzione dei volontari per la sicurezza che sono semplici cittadini armati di una pila e di una pettorina e che presidiano il territorio così come abbiamo chiesto l'applicazione del protocollo Milleocchi sulla città che proprio il sindaco di Vasto Luciano Lapenna ha firmato in prefettura e che prevede la collaborazione degli istituti di vigilanza privata nel controllo del territorio. Infine abbiamo chiesto anche che lo stesso sindaco si attivi presso il governo nazionale mediante i parlamentari di cui tra virgolette dispone per chiedere un rafforzamento di mezzi ed organico delle forze dell'ordine. Forze dell'ordine chiaramente alle quali va il nostro ringraziamento per il lavoro che quotidianamente svolgono tra mille difficoltà, tra carenza di mezzi e di uomini in una città che si estende su 70 chilometri quadrati e che evidentemente è difficile da sorvegliare in così poche persone. Quotidianamente, dicevo prima, i giornali sono pieni di fatti criminosi, di piccola e grande criminalità così come leggevamo appunto il sequestro di Ashish che naturalmente nasconde dietro un problema sociale che ugualmente va affrontato in un territorio che ha un consumo di sostanze stupefacenti veramente elevato. Sì, ricordiamolo che il consumo veramente elevato, come dice Marco De Michele Marisi, è stato ufficialmente rilevato in una ricerca fatta dall'Università d'Annunzio, Dipartimento di Sociologia, Prefettura di Chieti e ASDA di Lanciano Vasto Chieti in cui la nostra zona in effetti nelle tabelle compare sempre all'apice perché è quella nella quale il consumo e la vendita di stupefacenti è più alta di tutta la provincia di Chieti. Quindi c'è una conferma ufficiale a quello che diceva Marco. Sempre sul centro di oggi, non nella pagina locale ma in quella regionale, si discute della data del voto delle imminenti regionali. Come è noto la maggioranza vorrebbe votare a marzo ma secondo il quotidiano abruzzese questo pasticciaccio, diciamo, elezioni sarebbe arrivato, arriva sul tavolo del ministro degli interni Angelino Alfano. Tra le quattro date, questo è il sottotitolo, per le regionali rispunta anche l'ipotesi in novembre. Chiodi vanno combinate diverse esigenze, Paolucci e Mascitelli, due leader dell'opposizione, sono critici. Marco Di Michele Marisi che cosa pensa, quale sarebbe la data giusta? Io credo che la data sia il problema minore. Mi auguro piuttosto che la campagna elettorale delle elezioni regionali, così come quella delle elezioni europee e delle altre avvenire, si basi su una contrapposizione assolutamente di idee e non solo di persone. Credo che la nostra sia una straordinaria regione che ha cominciato a rilanciarsi anche sul piano nazionale dopo gli scandali del governo del Turco, noto ai più pertangenti mazzette e appunto vergogne sulla sanità. Mi auguro appunto che il prossimo presidente della regione, chiunque sia, si impegni a proseguire quel lavoro che lo stesso governatore attuale della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ha portato avanti, pur con le sue pecche, per togliere quell'alone di canaglia dalla regione Abruzzo che invece è sempre stata una regione indebitata. Va bene, però veniamo ai fatti di casa nostra sempre per quanto riguarda la regione. Noi abbiamo due uscenti a Vasto in maggioranza, Tonino Prospero e Peppino Tagliente, due a San Salvo, Nicola Argirò in maggioranza, presidente della Commissione Industria e Paolo Palomba in minoranza, vicepresidente Presidente della Commissione Sanità. Il Vastesi, diciamo, non ha brillato in questa legislatura, non ha avuto posti in giunta e comunque, diciamo, molti definiscono terramanocentrica la politica attuata dalla Giunta. Però è chiaro che qualunque sia stata, diciamo, la risultanza di questa legislatura, noi adesso dobbiamo guardare al futuro. In termini di rappresentanza, senza ovviamente entrare nei nomi, chiediamo a Marco Di Michele Marisi, lui cosa auspica per Vasto e per il Vastese, differente rispetto alla legislatura che si chiude. Innanzitutto, salvo Nicola Argirò, non mi sono accorto della presenza di altri consiglieri regionali che mi sta ricordando lei. L'assenza del Vastese proviene appunto dalla mancanza di incisività dei consiglieri regionali che lei nominava poc'anzi. Non è con un assessorato e quindi con una medaglietta sul petto che si può fare politica e azione amministrativa sul proprio territorio. E con l'impegno quotidiano e con la totale abnegazione, nonostante i ruoli che siano stati assegnati. I consiglieri che lei nominava, un ruolo l'hanno avuto, sono stati eletti, sono consiglieri regionali e dovrebbero piangere su loro stessi invece che accusare Chiodi che da parte sua fa i suoi interessi di immobilismo. Va bene. Allora, io chiuderei questa lunga, diciamo, intervista a commento dei fatti di oggi parlando di Giovani in Movimento. Giovani in Movimento viene editato dal movimento omonimo che dirige Marco Di Michele Marisi. Io ho avanti una copia vecchia, diciamo, di aprile. Siete solo dei marrani. Marrani perché, insomma, c'è l'assessore Marra e hanno giocato nel titolo sul nome. Però poi dopo di questo sono usciti altri numeri. Insomma, se Marco ci vuole parlare di questo foglio e soprattutto quando uscirà e se uscirà il prossimo. Sì, innanzitutto ho preso a riferimento questo numero del giornale che è di aprile 2013 perché al suo interno ci sono forse le questioni di cui anche oggi abbiamo trattato e che sono quelle che da diverso tempo portiamo avanti. Come per esempio la questione sicurezza con il progetto di videosorveglianza, un pezzo sulle opere pubbliche, così come un altro sulla questione dei deors, che è un altro problema che l'amministrazione comunale si trascina da mesi e forse anche da anni sulle autorizzazioni agli esercizi pubblici che vogliono posizionare delle strutture soprattutto nel centro storico per poter giustamente lavorare anche nella stagione invernale. Giovani in movimento è un giornale mensile stampato in 2000 copi che viene distribuito in 80 punti vendita a Vasto ed anche fuori dalle scuole che va avanti con successo. È un mensile che ci permette di far sapere ai cittadini di Vasto, alla comunità vastese, qual è il nostro pensiero sui temi che analizziamo settimanalmente, mensilmente, in riunioni con tutti i ragazzi. È un giornale che ha successo anche perché la scelta editoriale è appunto quella di approfondire gli argomenti del mese che accadono nella città del Vasto e anche perché viene dato brevi mano agli alunni delle scuole superiori che invece magari i quotidiani diversamente non li leggerebbero. Il nostro è un sodalizio di giovani del centro-nestra vastese che si propongono appunto di dare battaglia sui temi locali e di crescere come classe dirigente. E sempre a proposito di Vasto, città e della politica vastese, voglio annunciare che nel tradizionale chi ce c'è del venerdì che va in onda alle ore 21, quindi domani alle ore 21, avremo come ospiti, ci hanno garantito che domani registreranno con noi questo chi ce c'è, Nicola Delprete, Etel Sigismondi e Domenico Molino. Stiamo individuando il quarto, come al solito faremo una rubrica equilibrata, dovremo avere due di maggioranza e due di minoranza. Prima di chiudere chiedo a Marco se vuole dire qualcosa, se vuole mandare un messaggio a questi quattro consiglieri ed esponenti vastesi che dibatteranno domani sera. Credo che sapranno fare bene da soli. Quindi non suggerisci niente? Niente.